Che tipo di ricerca sta svolgendo in questo momento? In questo momento collaboro con il CNR di Roma e l'Università Telematica Uninet 1, per la quale sono ricercatrice in ambito di stimolazione e implementazione delle reti neurali, quindi neuroscienziato. Quali sono gli obiettivi terapeutici della sua ricerca? Data la mia passione verso la musica, ho sempre ritenuto che fosse uno strumento fondamentale per il coinvolgimento emotivo delle persone. Quindi a livello di sviluppo della psicoterapia ritengo che sia uno strumento importantissimo di personalizzazione e di creazione di legami. Quello che sto cercando di fare attraverso lo sviluppo di tecnologie di telemedicina personalizzata è quello di coinvolgere i pazienti anche attraverso strumenti magari inusuali, come possono essere la simulazione sonoro-musicale. Sviluppi futuri vi attenderete per i vostri pazienti? Io mi auguro che la salute mentale possa essere un target di attenzione crescente, anche perché appunto riguarda ogni segmento della popolazione e spero che questo arrivi a porre la salute mentale alla pari dignità della salute fisica di cui si occupa la medicina oggi. È forse un argomento che è stato sottovalutato negli anni scorsi, però la pandemia che abbiamo vissuto ha portato in evidenza quanto siano importanti degli interventi terapeutici mirati, personalizzati, in cui il paziente si senta seguito mediante un costante feedback e una personalizzazione del trattamento che non sia uniformante. Ogni persona, ogni cervello ha una sua neurotipicità, ogni mente funziona differentemente, le emozioni dell'essere umano sono importanti tanto quanto la cognizione e il rapporto fra mente e corpo e questo è importantissimo per le nostre linee di ricerca e di sviluppo della terapia. Ok, grazie mille. Grazie a te.